pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci offre spunti preziosi per vivere una vita piena sapiente centrata sull'essenziale ne vediamo in particolare due il primo punto lo intitoliamo non aver paura di amare gesù dice ai suoi discepoli non temere piccolo gregge perché al padre vostro è piaciuto dare a voi il suo regno è una parola potente e consolante un po come i discepoli di ieri anche noi oggi abbiamo tante paure paura del fatto di essere una minoranza un piccolo gregge rispetto ad una società che va per conto suo paura di fronte al male che sembra dilagare e poi paura di non farcela paura che non ne valga la pena in fondo abbiamo paura di amare perché perché fondamentalmente abbiamo paura di soffrire di perderci di non essere per nessuno legata alla paura di amare c'è la paura di morire ogni atto d'amore in fondo è un piccolo morire a sé al sé egoista perdonarsi e la tendenza ad autoconservarci ci porta a rinchiuderci noi stessi ecco oggi c'è annunciata una meravigliosa liberazione non temere il padre ti dà il suo regno la sua amorevole presenza in te il suo amore in te in esso c'è ogni bene in lui diventi capace di amare chissà forse anche tu ora stai affrontando un momento difficile di prova di sofferenza di paura magari anche tu sei spaventato sentendo la tua vita minacciata da una malattia oppure avverti la paura di riaprirti all'amore pensando che non ne valga la pena temendo di essere ferita per l'ennesima volta oppure hai paura di testimoniare la tua fede perché temi di essere scartato deriso messo da parte oppure hai paura di dire un sì pieno al signore per le conseguenze che potresti affrontare ecco gesù oggi ci dice e ti dice non temere piccolo gregge il padre ti dà il suo regno in esso ogni bene e se dio è con noi direbbe san paolo chi sarà contro di noi dunque caro fratello cara sorella aprigli il tuo cuore e non aver paura di amare è vero potrai anche ricevere qualche ferita qualche trafittura ma in cristo possono diventare feritoie di luce capaci di far passare il suo amore e illuminare scaldare il cuore di chi hai accanto è meglio avere delle mani ferite per aver amato che mani chiuse e pulite che non hanno donato caro fratello cara sorella non aver paura di portare avanti con amore la tua missione il tuo ministero anche se non ci sono i frutti sperati i conti li tirerà dio alla fine e lui conosce il tuo cuore le tue fatiche le tue angosce non aver paura di attraversare questa sofferenza che è davanti non sei solo il signore è con te è in te vuole essere uno con te e in lui nulla di ciò che vivi e soffri è perduto anzi tutto è redento e non aver paura di corrispondere alla chiamata di gesù egli non viene per togliere ma per dare senso e pienezza alla tua vita non aver paura anche se in chiesa o nella comunità siete in pochi il numero non è il criterio di dio non la quantità ma la qualità ciò che conta non è essere tanti ma essere santi essere suoi discepoli essere suo gregge ecco gesù ci chiama dunque ad aver fiducia in lui e forti del suo amore in noi ci chiama a donare e ad accumulare tesori in cielo come vendete ciò che possedete datelo in elemosina fatevi borse che non invecchiano un tesoro sicuro nei cieli dove ladro non arriva e tarlo non consuma perché dove il vostro tesoro la sarà anche il vostro cuore ci fa bene chiederci dov'è il mio cuore cosa ho davvero a cuore veramente sapiente direbbe don bosco è colui che cammina con i piedi a terra ma il cuore in cielo secondo punto per vivere bene con sapienza è importante essere pronti essere pronti è la maturità che una persona deve raggiungere nella sua vita spirituale non significa essere tesi o nervosi ma essere preparati le tre parabole seguenti ci offrono tre aspetti della prontezza che noi vediamo in breve primo punto c'è da essere pronti ad accogliere il signore che viene gesù dice siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito come a dire vive bene in modo sapiente chi attende all'incontro con dio e quando avverrà nell'ora della morte certo c'è dunque da essere pronti e preparati alla sua ultima e definitiva chiamata pensarlo ci aiuta a ridimensionarci e a lasciar perdere tante cose inutili nelle quali ci disperdiamo ma non solo miei cari sarebbe riduttivo c'è da essere pronti alle visite quotidiane del signore e vive bene chi le sa accogliere apposta sant'agostino diceva temo che il signore passi e io non lo riconosca ogni giorno il signore passa nella nostra vita e ci visita con intuizioni ispirazioni bussa al nostro cuore attraverso gli altri ci interpella attraverso i fatti della vita che bello avere un cuore desto e attento a riconoscerlo pronto a seguirlo gesù descrive così beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità vi dico si cingerà le sue vesti li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro secondo punto vivere bene significa essere pronti a partire a mettersi in cammino è l'immagine pasquale dei fianchi cinti e delle lampade accese che descrive l'atteggiamento richiesto al popolo di israele la notte di pasqua in esodo 12 pronti al passaggio del signore pronti a uscire dall'egitto a uscire dalla schiavitù a mettersi in cammino cosa significa per noi significa accettare di essere viandanti c'è chi vive secondo il motto sono così prendimi come sono punto chiudendosi in una mortifera staticità e chi come più undicesimo dice signore prendimi come sono ma rendimi come vuoi tu sapere che siamo in cammino e la vita è vita dinamicità cambiamento possibilità di crescita novità belle occasioni feconde talvolta anche dolorose possono arrivare in ogni istante vive bene chi sa entrarci chi sa accoglierle senza rimanere bloccato nei propri schemi o nelle proprie zone comfort c'è chi pensa di poter risolvere la vita una volta per tutte della serie vinto questo vizio sono tranquillo per sempre mi sposo ho trovato la pace dei sensi faccio casa e ho soddisfatto ogni desiderio ma non è così soddisfatto un desiderio ne spunta un altro risolto un problema ne arriva un altro maturata la propria vocazione ci sarà poi un cammino di crescita e purificazione superato una difficoltà ne incontreremo altre due oppure c'è chi cerca di risolvere la propria precarietà pretendendo di avere tutto sotto controllo schematizzando tutto cadendo così nell'ansietà e nella rigidità ora per quanto sia utile e ragionevole programmare e organizzarsi bisogna sempre mettere in conto l'imprevisto ed essere disponibili al cambiamento affidandosi al padre e alla sua amorevole provvidenza le cose non sempre vanno come vogliamo noi in fondo vanno come vuole il signore è veramente sapiente chi sa cogliere la sua volontà anche negli imprevisti entrando nelle occasioni che la vita gli dà ecco tal proposito ricordo un sacerdote che una notte stava rientrando dopo una catechesi nel suo paese e la sua macchina gli si ruppe proprio in mezzo alla campagna in una zona dove non prendeva linea neanche il cellulare quindi al buio si mise in cammino a piedi e prese una scorciatoia che non avrebbe fatto se fosse stato in macchina arrivato nei pressi di un ponticello intravide una sagoma si avvicinò e vide la figura di un giovane che stava per buttarsi giù dal ponte lui lo chiamò gli chiese di non farlo questo giovane desistette dal suo proposito i due iniziarono a parlare questo giovane scoppiò in lacrime si confessò e alla fine si incamminò persino con gesù nella parrocchia di questo sacerdote ecco come a volte persino gli imprevisti sono i passaggi di dio che bussa nella nostra vita terzo e ultimo punto vive bene chi è pronto a servire i fianchi cinti rimandano proprio al servizio e gesù risponde alla domanda di pietro dicendo che l'amministratore fidato e prudente è colui che dà il cibo ai servi a tempo debito abbiamo una parola rivolta soprattutto ai responsabili delle comunità ai sacerdoti ai vescovi ma in fondo a tutti tutti abbiamo responsabilità sugli altri tutti siamo chiamati a prenderci cura gli uni degli altri chi vive bene chi vive per servire chi coglie le occasioni che ogni giorno ha per donare felicità per regalare un sorriso per servire la vita che gli è affidata in famiglia sul posto di lavoro le persone che incontra i poveri con cui viene a contatto ecco vive bene chi sa cogliere le piccole grandi occasioni per amare un famoso detto recita sognai che la vita fosse gioia mi sono svegliato ed era servizio ho servito e servendo ho trovato la gioia che il buon dio ci doni la grazia cari fratelli e sorelle di vivere in modo sapiente aprendoci all'amore pronti a incontrarlo pronti al cambiamento pronti a metterci a servizio che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti